Sono Carolina, ho 50 anni e oggi vi racconto la parte social della mia vita col diabete. Mi hanno diagnosticato il diabete nel 1993, non usavo particolarmente internet. Qualche anno fa invece ho conosciuto alcune persone che mi hanno cominciato a parlare di gruppi social. Io avevo dei pregiudizi nei confronti dei social, non mi ero mai iscritta e quindi alla fine mi sono iscritta a Facebook proprio per iscrivermi a questo social che poi era portale diabete. Conoscendole ho capito che loro sapevano almeno dieci volte quello che sapevo io. Il vantaggio è anche quello della quotidianità secondo me, sostanzialmente non sei mai veramente isolato come lo ero prima.